Non solo i no tem, spuntano infatti anche i sitem, i residenti della zona sud di Milano favorevoli alla realizzazione della tangenziale esterna, un'opera da 32 km di tracciato autostradale che partirà da Gratebrianza. Mercoledì sera i cittadini hanno dimostrato di non voler rimanere sempre silenziosi di fronte alla contrarietà del comitato no tem simetro. Una trentina di loro ha infatti spontaneamente evocato la realizzazione dell'intera opera entro il 2015 data dell'expo. Lo ha fatto nell'ambito dell'assemblea pubblica all'auditorium di Vizzolo Predavissi. Sentiamo l'assessore delegato e direttore tecnico di tem Stefano Maullu. È un impegno dell'azienda quello di mantenere questo filo continuo con tutti coloro che sul territorio vogliono aiutarci a rendere assolutamente protagonista quest'opera pubblica. Sì, una serie di voci favorevoli sono state poi una piacevole sorpresa perché molti hanno capito a fondo quella che è la realtà di una grande opera pubblica che si svilupperà per 32 km e che creerà lavoro, ricchezza su un territorio che ha la necessità di essere sempre più integrato nella grande Milano.